ciao amici e bentornati sul canale come avrete potuto intuire dal titolo di questo video oggi è una giornata no tra l'altro stanno anche facendo dei mega lavori fuori dalla mia finestra quindi sicuramente non ciò non aiuta dicevo è una giornata no in realtà è stata un po una settimana non diciamo non delle migliori principalmente per via del lavoro di alcuni problemi sul lavoro e cose che ruotano intorno al lavoro non necessariamente legate a me ma comunque cose delle quali risento e e oggi ho un po raggiunto il culmine perché è tutta la settimana che non dormo bene che ho un po di bruciore di stomaco che mi sento sento un po di di ansia un po di stress e diciamo che non il fatto di non dormire bene sicuramente mia mia debilitata e stanotte mentre nelle altre notti sono riuscita a dormire un po stanotte proprio non ho dormito niente cioè ho continuato a girarmi e rigirarmi avevo messo la sveglia alle 6 perché avevo alcune cose da fare ma alle 5 e un quarto ero ancora sveglia con il criceto del mio cervello che continuava a correre sulla ruota senza fermarsi e quindi ho staccato la sveglia sperando di riuscire a dormire in realtà poi ci sono anche i lavori qua fuori quindi poi alle 7 mi sono alzata senza mai addormentarmi quindi sono molto stanca e la stanchezza mi fa sentire ancora peggio riguardo ad ansia e stress quindi non è una buona giornata se volete guardare un vlog più positivo ne ho molti altri sul canale però ho deciso di filmare comunque questo video oggi perché credo che sia importante essere se stessi anche online e voi mi vedete spesso felice gioiosa su di morale e normalmente lo sono ma ci sono anche giornate come questa in cui mi sento particolarmente giù particolarmente stanca priva di energie e quindi ho deciso di aprirmi con voi in relazione anche a questi momenti sperando che il mio modo di affrontare queste giornate giusto sbagliato che sia possa in qualche modo aiutarvi a affrontare anche le vostre giornate negative e ad accettarle perché quello che ho deciso di fare stamattina è accettare che mi sento così senza colpevolizzarmi perché obiettivamente se succedono determinate cose sul lavoro ci sono determinati problemi non è necessariamente colpa mia anche se ne vengo in qualche modo coinvolta ma non credo di avere responsabilità in questo caso e quindi se mi sento così non è dovuto al fatto che sono una persona debole o che sono una persona incapace dovuto al fatto che ci sono determinate circostanze che influenzano il mio modo di essere e quello che posso fare è accettare che mi sento così appunto non colpevolizzarmi prendermi cura di me stessa e ascoltare i segnali che il mio corpo mi dà non devo forzarmi obbligarmi rinchiudermi per completare tutto quello che avevo assegnato a questa giornata semplicemente mi devo devo cercare di recuperare il mio buon umore recuperare il mio benessere fisico e mentale ritrovare quell'equilibrio che normalmente ho nella mia vita quindi spero che questo video vi serva a capire che tutti hanno delle giornate no per diversi motivi e spero che questo video vi aiuti ad affrontare le vostre di giornate no ovviamente spero anche di sentirmi un po meglio stasera magari e anche nei prossimi giorni chiaramente oggi devo lavorare una giornata lavorativa quindi non posso completamente o mi do malata ma non so se se sia il caso potrei potrei farlo perché comunque la salute mentale è importante quanto quella fisica non non mi darò malata ho alcune cose da fare cercherò semplicemente di vivere una giornata tranquilla e di recuperare il mio equilibrio questa mattina non mi dedicherò alle attività che avevo pianificato non cercherò di correre per recuperare tutto andrò a fare una bella camminata un po in città e un po al parco e amererò il cielo azzurro la natura la città che si risveglia mi focalizzerò su sul mio respiro sul mio passo senza cercando di non pensare a nulla e poi quando quando sarò tornata forse mi sentirò meglio spero di sentirmi meglio e vedrò cosa fare mi metterò a lavorare penso che lavorerò su cose diverse rispetto a quelle che mi hanno causato problemi in modo da poter poter allontanare un po ai pensieri negativi se continuate a guardare questo video vi ringrazio moltissimo sono contenta di poter esprimere anche la versione un po meno giugissima di me e la versione un po più giugiaccia direi sono contenta di poter essere me stessa ho camminato molto senza pensare a nulla è una volta arrivata ad uno dei miei parchi preferiti mi sono seduta su una panchina ad ammirare i colori della natura il cielo la tranquillità e ho ascoltato i rumori degli uccellini il cinghettio degli uccellini sopra di me e intorno a me e questo mi ha fatto sentire un po meglio ho poi ripreso camminare e ho attraversato la città impegnata in tutte le attività del mattino sempre continuando a mantenere la mente libera ad ascoltare il mio respiro a seguire il mio passo ed è stato bello soffermarmi un po di più su qualche angolo della città che normalmente non osservo la città che non ci sono stati Grazie a tutti. Dopo essermi sistemata e preparata una tazza di tè, ho iniziato a lavorare. Ho lasciato da parte i problemi che mi avevano stressata nei giorni precedenti e mi sono dedicata ad altri compiti di lavoro. Ho lavorato su alcuni contratti, risposto ad email e avuto alcune brevi riunioni. Ho lavorato, ho portato a termine un po' di attività. Mi sento un po' meglio, mi sento molto sottotono, nel senso che non sono entusiasta di tutto come lo sono di solito, però comunque mi sento meglio rispetto a stamattina. Adesso è ora di pranzare, penso che mi farò una buona omeletta anche con un po' di verdura. Mangiare sano mi aiuta in queste giornate. A volte magari mangio anche cose non sane, non è che mi obbligo a seguire un certo tipo di alimentazione, però per esperienza so che se mangio bene nelle giornate in cui non mi sento tanto bene, tendenzialmente il cibo mi aiuta poi a sentirmi meglio. Quindi inizierò a prepararmi un omelette e poi vedrò se avrò ancora fame dopo. Visto che ho finito di fare uno dei lavori che dovevo fare un po' in anticipo, perché alla fine non aspettava a me portare a termine tutto, ho anche filmato un breve video su YouTube. E in realtà a volte filmare video per YouTube mi fa bene, perché quando filmo un V6 cerco di essere un pochino più entusiasta e diciamo che sorridere un po' di più mi aiuta anche a sentirmi meglio. Il video sarà già uscito quando uscirà questo video, se mai lo pubblicherò. Nel caso ve lo lascio nel link e in descrizione. È ora di mangiare! Alla prossima! Ho anche deciso di provare una nuova ricetta per una bevanda. In inglese si chiama turmeric gold latte ed è un latte d'oro con curcuma. Credo che si traduca curcuma in italiano. E quindi proverò la ricetta e poi se viene bene ve la scriverò sul blog, cosicché anche voi possiate provarla. A quanto pare ha molte proprietà, la curcuma ha molte proprietà e poi aggiungerò anche qualcos'altro, qualche altra spezia e spero che mi dia un po' di sollievo al corpo e anche alla mente. Vedremo! È buono! È anche un bel colore, colore del sole. Vi lascerò la ricetta sul blog. Ho ancora una decina di minuti a disposizione della mia pausa pranzo. Mangiare mi ha fatto bene. Mi sento un po' meglio, ma sono comunque molto stanca. E quindi penso che passerò questi dieci minuti sul divano con gli occhi chiusi. Metterò una sveglia. Non credo di addormentarmi, non mi addormenterò. Però ho solo bisogno di chiudere un attimo gli occhi in una sorta di meditazione, relax, prima di rimettermi a lavorare perché ho ancora tante cose da fare nel pomeriggio. Però non stress. Mi sento meglio rispetto a prima e spero che la giornata continui in questa direzione. Prendermi cura del mio corpo mi fa bene e mi aiuta anche a prendermi cura della mia mente un po' meglio. Il mini riposino mi ha fatto bene e poi ho ripreso a lavorare cercando di completare tutto nel più breve tempo possibile in modo da potermi rilassare e dedicare ad altre attività per il resto del pomeriggio. Ho anche fatto editing di un video. Questo principio si ritrova anche in libri dei quali vi ho già parlato. in altri video. Mi sono poi rilassata leggendo un po' ed è arrivato il mio fidanzato che mi ha portato un bellissimo mazzo di fiori sapendo che non stavo benissimo mentalmente e quindi li ho sistemati con cura dentro due vasi e ho così addobbato la casa. è ora di preparare la cena. Dopo cena io e il mio fidanzato abbiamo studiato insieme sul libro di Nautica in danese e ci siamo interrogati a vicenda in modo da fare active recall. è quasi ora di andare a dormire e stasera dopo cena ho studiato per il corso di vela in danese e ne ho parlato con il mio fidanzato e sono pronta per la lezione di vela di domani. alla fine è stata una buona giornata sono stata stanca ho ascoltato il mio corpo mi sono ripresa non ho preteso troppo da me stessa ho semplicemente seguito un po' il flusso di come mi sentivo e ora mi sento molto meglio la mia mente è molto più libera mi ha fatto bene non continuare a pensare alle stesse cose dedicarmi ad altre attività ho anche finito il video da caricare su youtube e spero di riuscire a dormire bene stanotte e se non ci riuscirò domani rifarò le stesse cose che ho fatto oggi dandomi il tempo per recuperare per sentirmi meglio spero che questo video vi sia piaciuto anche se è un po' diverso dal solito ma spero che vi abbia aiutati nel caso in cui anche voi vi sentiate un po' giù di morale ogni tanto e non sappiate come recuperare questi sono i miei metodi per sentirmi meglio fatemi sapere quali sono i vostri fatemi sapere se avete dei consigli fatemi sapere come vi sentite ricordatevi che escono due video a settimana uno giovedì e uno domenica che c'è sempre un post sul blog almeno una volta a settimana che vi aspetta seguitemi su instagram mettete mi piace iscrivetevi al canale e come sempre io vi abbraccio molto forte e ci vediamo nel prossimo video